Io mi chiamo Massimo Zanetti e li pingo da circa una decina d'anni da autodidatta. Alle mie spalle è uno dei lavori che vedete. Mi è stato chiesto spesso cosa rappresentano. Di solito io rispondo così. Penso che non è tanto importante quello che si vuole rappresentare nell'arte informale, intendo, ma quello che si vuole far sentire. Io penso che la fatica più grande sia cercare di raggiungere l'animo altrui per metterlo in contatto con il proprio, dialogando sotto tanti aspetti che sono la passione, la conoscenza, la ricerca, la verità. Insomma, sono molte le cose che si possono dire con un dipinto. Io provo a raccontare questo, provo a raccontare tutto quello che generalmente i nostri occhi non vedono, perché poco abituati, e lo faccio con la mia piatura.